Morbi gioca con aria, si contende un pezzo di pane. Grazie a tutti. Come potete vedere aria è bella grassoccia perché come al solito i proprietari non è che la sanno tenere molto bene, è tutta una questione di alimentazione, guardate come grasso terra non deve essere così, fanno bene in America, gli fanno molto a proprietari. Non si può allungare sempre i bocconcini quando sono a tavola, se il cane chiede gli dai una crocchetta delle sue e basta. O un pezzetto di crosta di pane per esempio, quella non lo fa ingrassare di sicuro. Invece la gente li allungare tutto, vedete come è bella cicciotta, anche se è abbastanza agile. Boni. Boni. Oh oh. Hai aria. Hai aria. Tieni. Tieni. Ora si calmano un po', gli ho dato un biscottino vegetale che male non gli fa. voglio essere ripreso il pezzetto di pane. Ora con quello ci gioco un sacco di tempo, perché è bello duro. Guardate che rosa che fa la mia pianta, gli ostini li hanno levati, ma male non gliene fanno nemmeno quelli che vuoi gli facciano, anzi almeno ti distruggono la casa. Ovvio, gli positini. E dopo ho fatto?